Se i lavori sul cavalcavia di Mestre fossero iniziati prima, forse si sarebbe evitata la tragedia. L'assessore Boraso chiede una riforma che accorci i tempi in cui si aprono i cantieri per le ristrutturazioni. Repressione e prevenzione dei reati a partire dallo spaccio di droga. Il questore Boraso in visita alla redazione di Venezia Mestre di Antenna 3 ha fatto il punto sulla lotta alla criminalità. Conta dei danni ancora in corso sul litorale dopo l'ondata di maltempo della scorsa settimana per il presidente dei Balneari Veneti, l'evento più grave dall'acqua granda del 2019. Quattro anni fa Venezia veniva devastata dalla seconda peggiore acqua alta della storia recente, con danni per centinaia di milioni di euro. Domani dalle 21.15 il documentario di Medio Nord-Est, l'apocalisse di Venezia. Parla Roberto Rossetto, designato alla presidenza della nuova autorità per la laguna di Venezia. Urbanista, paesaggista, entro fine anno la sua nomina dovrebbe essere effettiva. Al via la stagione dei congressi di Fratelli d'Italia. Domani verrà ufficializzata la doppia guida del partito a Venezia con Raffaele Speranzon e Lucas Pavanetto. Gli arancionero-verdi hanno battuto ieri sera al Penso per 2-1 il Catanzaro. Continuano il loro momento magico, la società stringe un'alleanza con i propri tifosi e l'entusiasmo è alle stelle. Buonasera, benvenuti. Edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Dunque, se i lavori di restauro del cavalcavia di Mestre, da cui è precipitato il bus della linea, fossero iniziati prima, forse si sarebbe evitata quella tragedia. L'assessore Boraso punta il dito contro le lungaggini della burocrazia e chiede una riforma che accorci i tempi in cui si aprono i cantieri per le ristrutturazioni. Non è pensabile che su opere di messa in sicurezza si debba avere una progettualità così lunga. Un progetto solo e poi si va in gara, perché altrimenti ci vogliono anni, altrimenti ci vuole un commissario. È un tema, è normale aspettarci ogni volta per una cosa, un commissario. Una procedura più snella per mettere in cantiere i lavori urgenti di restauro, campanili, ponti, cavalcavia pericolanti. La proposta da estendere a livello nazionale parte dal Comune di Venezia, dall'assessore alla mobilità Renato Boraso, dopo la strage della rampa Rizzardi. I primi interventi di restauro di quel che cavalcavia furono decisi dalla Giunta Comunale di Venezia nel 2018 e in questi giorni la Procura starebbe appurando cosa sia successo in questi cinque anni. La risposta di Boraso è l'attraversamento di un percorso a ostacoli di procedure e burocrazia, solo al termine del quale erano recentemente e finalmente iniziati i lavori. Siamo partiti dal monitoraggio, da mettere i primi fondi nel 2018, a effettuare il primo studio di fattibilità tecnico-economica acquisito in Giunta e poi devi fare il definitivo, e poi devi tornare in Giunta, e poi devi fare un esecutivo, poi vai in gara, chi vince devi attendere almeno 30 giorni perché poi le seconde imprese possono farti anche ricorso. Questi sono i tempi ordinari. Io penso, lo dico con tutta onestà, non voglio offendere nessuno, ma se avesse seguito i tempi ordinari il Ponte Morali oggi sarebbe solo le fondazioni. Secondo Boraso non è possibile che solo la nomina di un commissario straordinario, anche a volte per compiti che dovrebbero essere ordinari, possa sbloccare e accelerare le procedure necessarie per interventi urgenti. Continuerò a scrivere ai senatori, continuerò a scrivere ai deputati, perché forse questa esperienza, questa vicenda tragica, purtroppo di una tragedia immensa, ci insegna anche che sui temi della sicurezza o arriva un commissario, che non è la cosa normale, oppure diamoci un'indicazione, un progetto e si va in gara. Repressione ma anche prevenzione dei reati a partire dallo spaccio di droga. Il nuovo questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, ha visitato la redazione di Venezia Mestre di Antenna 3. Grazie, grazie a voi. Il nuovo questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, in visita alla redazione di Venezia Mestre di Antenna 3, dove ha incontrato il direttore di Media Nord-Est Luigi Bacialli, i giornalisti e i tecnici. Il vincolo fiduciario che lega i cittadini alle forze dell'ordine si rafforza anche attraverso quel rapporto di comunicazione quotidiana tramite gli organi di informazione. Entrato in polizia nell'87, Bonaccorso ha operato nelle questure di Palermo, Messina e Genova, prima di diventare nel 2011 vicario del questore di Padova e dal novembre 2020 questore di Pisa. A Venezia ha sostituito Maurizio Masciopinto, divenuto nel frattempo prefetto. Una realtà che certamente ha bisogno di un'attività di contrasto, soprattutto in alcune zone, che sono zone dove vi è particolare presenza di attività criminali, soprattutto di attività criminali di tipo diffuso, predatorio, certamente la presenza di stupefacenti che è particolarmente diffusa in alcune aree e su quelle aree stiamo concentrando una maggiore azione, una maggiore presenza. Lo spaccio di stupefacenti è tra i grandi problemi del veneziano. Accanto ad una pianificazione che garantisca una presenza il più diffusa possibile delle forze dell'ordine, nell'ultimo periodo si sono intensificati gli interventi coordinati dalla questura con tutte le forze di polizia. Accanto a queste operazioni se ne affiancano altre meno visibili. Un'attività di analisi investigativa per individuare i soggetti che realmente determinano un'alterazione delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico di quella porzione di territorio e cercare di mirare gli strumenti che si hanno a disposizione, soprattutto con riferimento a quei soggetti che emergono da questa attività. E il bilancio delle ultime due settimane di attività della polizia è di sette arresti e cinque denunce per reati contro il patrimonio e in materia di spaccio di stupefacenti. Uno degli arrestati è accusato di rapina aggravata in via Paruta nel quartiere Piave, i controlli antispacio in via Piave, via Miranese e Corso del Popolo e Marghera hanno portato a diversi arresti, alcuni in flagranza di reato e al sequestro di numerose dosi di cocaina ed eroina. L'attività di contrasto invece all'immigrazione clandestina ha permesso di individuare otto irregolari in Italia per i quali sono stati emessi altrettanti provvedimenti di espulsione. Voltiamo pagina, andiamo alla conta dei danni ancora in corso sul litorale dopo l'ondata di maltempo dei giorni scorsi. La mareggiata che purtroppo ha interessato tutta la costa veneta la scorsa settimana è stata particolarmente intensa, direi la più violenta degli ultimi anni. Una mareggiata così non si vedeva dall'acqua granda del 2019, dice Alessandro Berton, presidente dei balneari veneti, alla fine di una settimana fatta di interventi d'urgenza e conta dei danni lungo la costa da Bibiona al Delta, 10 milioni di euro, il computo provvisorio. Come possiamo vedere dalle immagini insomma c'è stato un grande impatto dal punto di vista erosivo, la conta dei danni è tuttora in corso, i dati sono molto fluidi. Ma un conto è l'emergenza, un altro la programmazione degli interventi non più rinviabili, un modello di riferimento c'è già, si guarda al nord Europa. In Olanda è stato fatto uno studio su una costa che è per dimensioni e per tipologia di sabbia molto simile alla nostra, è stato creato quello che loro chiamano sand engine, il motore della sabbia, creando di fatto un deposito naturale da cui poi vengono attinto il materiale sabbioso per andare a fare i puntuali interventi di ripristino. Il progetto è già l'attenzione di istituzioni locali e comunitarie pure dell'università, ovvio che servono risorse, ancora prima occorre sciogliere una volta per tutte il nodo delle concessioni, si va verso una nuova proroga ma il problema resta. Siamo in ostaggio dei tribunali amministrativi, agli imprenditori dobbiamo dare risposte certe e soprattutto dobbiamo mettere in condizione chi ha sempre investito e ha continuato ad aumentare il livello qualitativo della propria offerta di poter programmare l'attività anche per il futuro. Bertone intanto incassa un riconoscimento sia come imprenditore che in qualità di presidente di categoria la prestigiosa rivista economica Forbes lo ha inserito tra i 100 imprenditori italiani più innovativi e influenti del 2023. Quattro anni fa Venezia veniva devastata dalla seconda peggiore acqua alta della sua storia recente per centinaia di milioni di euro, un fenomeno che si ripete con livelli sopra la media anche nella settimana seguente. Sono passati quattro anni da quella notte. Alle 22.51 del 12 novembre 2019 la marea raggiunge il picco di 187 centimetri, il più imponente nella storia delle acquarte a Venezia dopo il 1966. Ma rispetto ad allora il mare entra nella laguna con un'irruenza impetuosa, una violenza che non si era mai vista prima, provocando un disastro. Io non ho mai assistito a una cosa del genere. Ho visto la piazza molte volte colma d'acqua. Ieri c'erano delle onde che sembrava di essere in riva al mare. Io sono 15 anni che lavoro in sala operativa, non l'ho mai visto, ma neanche nei casi di studio. Venezia è al centro di una tempesta perfetta, picco della marea astronomica, livello medio elevato del mare Adriatico, forte vento di scirocco con passaggio di un ciclone di piccole dimensioni che provoca raffiche di vento oltre i 100 chilometri orari. Si rischia veramente di non farcela più, comunque domani chiederemo lo stato di calamità cittadina e chiediamo che ci diavano la mano perché qui i costi sono tanti. Seremo subito, subito, fino a 5 mila euro per i privati, che hanno subito tanti, fino a 20 mila per gli esercizi commerciali. Serve un piano straordinario per Venezia. Parlare di Venezia e distinguerlo dal patrimonio culturale è quasi impossibile perché non è un tema di edifici vincolati in un tessuto urbano che non merita tutela. Qui è tutta Venezia che merita tutela. Nei giorni seguenti la marea supera per 4 volte i 140 centimetri, livelli che entrano tra i primi venti degli ultimi 150 anni. I danni ammontano a centinaia di milioni, il maltempo si abbatte anche sul resto della provincia. A Venezia, poco meno di un anno dopo, il 3 ottobre 2020, il modulo sperimentale elettromeccanico comunemente noto come MOSE alzerà per la prima volta le paratoie lasciando l'alta marea fuori dalla laguna. E' a quattro anni dunque dall'acqua granda che travolse il capoluogo lagunare domani sera dalle 21.15. Vi ricordo che vi riproporremo l'Apocalisse di Venezia, il documentario realizzato da Media Nord-Est con il racconto drammatico di quei giorni che il Veneto visse davvero con queste immagini sconvolgenti che vi stiamo riproponendo e che vi riproporremo domani sera. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta da studio, ben ritrovati, parla ai nostri microfoni Roberto Rossetto designato alla presidenza della nuova autorità per la laguna di Venezia. La nuova autorità per la laguna di Venezia al momento è una scatola vuota che attende di essere riempita. Il presidente designato, Roberto Rossetto, 71 anni, veneziano urbanista e paesaggista, ha le idee ben chiare e saprà come fare. Parla così ai microfoni di Antenna 3 Media Nord-Est. Voglio ringraziare il ministro Salvini e il sindaco Lugnaro per la fiducia nei cambi. Detto questo, con loro dovrò lavorare in particolare con l'amministrazione per mettere a fuoco come dire, inizialmente proprio la struttura della macchina perché, come saprà, l'autorità era una rettituità per lezze ma non ha una sua organizzazione. C'è un tempo amministrativo impegnativo prima di mettere a fuoco. La nomina dovrà ora passare al valio delle commissioni parlamentari. L'auspicio è che la nuova autorità sia operativa per l'estate 2024. Da subito ho fatto lo statuto perché se no non sappiamo esattamente di cosa stiamo parlando e deve essere poi approvato dal ministero. E già questo è un passo chiave. Nel frattempo cercheremo di iniziare le grandi interlocuzioni che servono con tutti i portatori di interesse da quelli economici, a quelli civili, a quelli ambientali per allineare intanto i problemi e poi pensare non alle soluzioni ma a come tenerli insieme in positivo. Ci sarà un dialogo costante con tutti gli enti? C'è una relazione diretta proprio nella istituzione dell'autorità. Quindi l'autorità portuale che ha una sua piena autonomia deve però interloquire direttamente con l'autorità che diventa in un certo senso la cabina di regia verso tutte le azioni che il ministero delle strutture fa su questo territorio. E c'è invece un docente di musica a capo delle proteste di un gruppo di veneziani contro l'inquinamento acustico e il moto ondoso. Moto ondoso, rumore, inquinamento da PM10 e polveri sottili. Non si placano le proteste dei residenti di Rio Novo che chiedono all'amministrazione comunale di essere più incisiva nel combattere queste forme di degrado che rendono sempre più difficile la vita ai veneziani del centro storico. La situazione è disastrosa, c'è stato un lieve miglioramento per quanto riguarda l'inquinamento da biossi e da solo solo ma principalmente dovuto alla pandemia e il covid. Per il resto i rumori, motondoso, PM10 e quant'altro sono rimasti invariati. Tutte le ordinanze che sono state fatte non hanno risolto assolutamente il problema. In particolare su Rio Novo l'accusa al comune è quella di non aver previsto misure per combattere il rumore. E nel piano di sanamento non è stato previsto nulla per Rio Novo sul rumore proprio il posto dove sono stati ufficialmente misurati dall'ARPA e questo non ce ne capacitiamo. Ora l'argomento all'ordine del giorno è il sistema di controllo della velocità simile al tutor che usa un sistema GPS e che viene già utilizzato sulla terraferma. Ma questo sistema da quel che abbiamo letto sembra che potrà essere applicato perché lo chiede solo il comune quindi nei suoi canali di competenza e quindi tutto il canale tipo canale della Giudecca che non è di competenza del comune o canale di Tessera potrebbero essere fuori. L'unico modo per prendere provvedimenti sulla velocità in tutta la laguna, dicono i residenti, è farlo con la commissione consultiva mista, ovvero con tutti gli attori interessati riuniti insieme. Una commissione che però sembra che nessuno prenda l'iniziativa di convocare. Qui non è avere un attacco politico alla presente amministrazione ma è capire perché nessuna amministrazione in 25 anni si è preso questa patata polletta per risolvere il problema. Di certo i residenti non si rassegnano e continueranno a farsi sentire. C'è mezza Venezia, mezza società sportiva e precisamente le remiere e quant'altro che stanno dando dura battaglia proprio sulla questione. Ormai c'è un parere popolare anche perché il moto ondoso, i rumori, il biossio di azoto, le polvere e quant'altro creano una multitudine di danni collaterali. Abbiamo contestato tutto, non c'è stata più data risposta. Ma noi insistiamo con i garanti e con gli studi legali. La politica adesso partono domani da Venezia e i congressi provinciali di Fratelli d'Italia. Innanzitutto domani iniziamo con due congressi, quello di Venezia città e di Venezia provincia che sono unitari, tra l'altro quindi dove si è trovata una quadra politica per rafforzare la classe dirigente dopo tanti anni di lavoro di Raschillà a Venezia città e di Pavanetto che poi verrà riconfermato in Venezia provincia, mentre a Venezia città c'è la Speranzone. Partono da Venezia i congressi provinciali di Fratelli d'Italia e se qui la quadra politica si è trovata prima del voto lo stesso discorso non è scontato per gli altri appuntamenti. Dove non si riuscirà, saranno due visioni di come far crescere il partito che saranno a confronto e saranno i tanti militanti a decidere. Il 26 novembre toccherà il congresso provinciale di Treviso, al momento l'unica certezza è la candidatura di Giuseppe Montuori. Dall'altra parte sento che c'è un po' di fermento di altri, però ad oggi non abbiamo ancora un nome sicuro, non è ancora stata depositata la candidatura. In attesa che vengano depositate altre candidature ufficiali si fanno sempre più insistenti le voci che vedrebbero una sfida a Montuori Claudio Borgia. Chiunque sarà si tratterà di un confronto aperto sui contenuti e io vigilerò perché sia così, aggiunge De Carlo, che sottolinea come tutti i congressi siano accomunati dallo stesso spirito. Compattare il partito per le prossime sfide europee, tante comunali e soprattutto le regionali che per noi sono un banco di prova importante. E a proposito di regionali, nei giorni scorsi era circolato il nome del presidente dell'ICE, Matteo Zoppas, ma è stato proprio il diretto interessato a smentire una sua possibile candidatura a Palazzo Balbi nel 2025. Sta facendo un lavoro tra l'altro eccellente nell'ICE e è riconosciuto in tutto il mondo per la sua proverbiale capacità di rappresentare al massimo l'Italia. Un po' prematuro a parlare di candidature, però sicuramente abbiamo una classe dirigente che può rappresentare il futuro di questa regione. Quando sarà ora saremo sicuramente pronti. Il nome di De Carlo si era fatto anche per una candidatura a Rele Regionale? De Carlo sta benissimo a fare il presidente della Commissione di Agricoltura, del Senato ed è contento così. Però De Carlo lavorerà sicuramente per avere un governatore dei Fratelli d'Italia. Un'ultima considerazione, il senatore De Carlo la rivolge al referendum sul premiareato annunciato dalla premia Giorgia Meloni. È chiaro che a qualcuno dia fastidio. Sono tanti, insomma il PD è abituato a governare senza aver mai vinto le elezioni. Ad oggi invece diamo la possibilità anche agli elettori del PD di poter scegliere il proprio primo ministro. Io sono sicuro che gli italiani poi sceglieranno ancora Meloni. La morte della contessa del cinema italiano Marina Cicogna, non ci saranno celebrazioni pubbliche per i funerali. Niente funerali o celebrazioni pubbliche per l'addio a Marina Cicogna, morta sabato scorso nella sua casa romana all'età di 89 anni. La prima produttrice cinematografica europea, nipote del conte Giuseppe Volpi di Misurata, fondatore della Mossa Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e presidente della Biennale di Venezia, ha lasciato disposizione chiara e precisa la compagna Benedetta per l'esecuzione delle sue ultime volontà. La sarma di Marina, come da lei indicato, è stata Benedetta due volte in casa. Un saluto intimo, semplice e assolutamente privato. Dopo le accremazioni, le ceneri potrebbero essere portate a Venezia, ma non c'è ancora nessuna decisione ufficiale in merito. Il direttore della Mossa Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, nel suo ricordo, ha voluto dare spazio ad un aneddoto personale. La ricordo con affetto anche per un altro motivo. Si era offerto più volte di aiutarmi nel mio lavoro di direttore della Mostra del Cinema. Non ho rifiutato, non ho rinunciato alla sua collaborazione per presunzione, ma perché mi metteva un po' in imbarazzo, mi preoccupava il peso della sua personalità. A Venezia, intanto, sono già state fissate le prime due importanti iniziative per renderle omaggio. L'8 gennaio all'Ateneo Veneto ci sarà la presentazione del suo libro Autobiografia Ancora Spero, scritto con la giornalista Sara Descenzo. E tra gennaio e febbraio il circuito Cinema Comunale di Venezia la ringrazierà con una rassegna con tutti i suoi film di grande successo. Siamo allo sport, adesso al calcio, al penso per il 2-1 del Venezia al Catanzaro. Con la vittoria per 2-1 al penso sul Catanzaro, il Venezia Football Club consolida il secondo posto in classifica. Ieri sera grandi emozioni a Sant'Elena, dove prima della partita è stata ricordata in modo commovente Valeria Solezin ha otto anni dalla strage terroristica del Batacan. Il vice sindaco di Venezia Andrea Tomello, con il general manager del Venezia Football Club Filippo Antonelli e il capitano Marco Modoro hanno deposto una coronda davanti alla taglia del settore distinti che porta il nome di Valeria. Per la famiglia Solezin era presente il fratello. A club arancionero verde Mario Tesconi dell'Italia di Venezia, presieduta da Luigi Gino Punta, intanto si è avuta la conferma del grande entusiasmo che avvolge la squadra in questo momento d'oro. Mister Paolo Vanori e Antonelli sono stati premiati durante l'incontro con i tifosi dall'assessore ridense Michele Zuin. Lavoriamo ogni giorno e come ho detto i ragazzi dobbiamo concentrarsi partita per partita e poi a fine di giro di andata vediamo dove sarà il nostro posto e giustamente prepareranno il giro di andata. No, intanto avete portato i tifosi al pietro. Questa è secondo me la soddisfazione più grande. Quello che stiamo facendo di vivere i club, di vivere la città, di cercare di essere più presensi nel territorio attraverso queste iniziative è un segnale, è una presenza che va oltre il risultato, è una roba che dobbiamo portare avanti nel tempo perché questi tifosi sappiamo che sono vicino a Venezia e se che le cose vanno bene, che le cose vanno Il club del Lido sta crescendo sempre di più, il calcio a Venezia in questo momento è una buona posizione, non diciamo altro, speriamo che continui sempre tutto così. Non poteva mancare un saluto finale in Rima. Col bel tempo e coi marosi, sempre amici, sempre tifosi, è una fede, non un'inezia, vogliamo grande il Venezia. In chiusura vi ricordo che da lunedì 13 novembre la nostra trasmissione di prima serata Ring, anticiperà di un quarto d'ora, andrà in onda dalle 21 invece che dalle 21.15 Quindi ricordatevelo da lunedì Ring alle 21 su Antenna 3. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Adesso tocca a Treviso, prima come sempre le previsioni del tempo. Arrivederci. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a Sandona di Piave. Benvenuti al meteo, le previsioni per domenica 12 novembre. Sul Veneto tempo variabili con nubi alternate a spazi di sereno. In montagna possibili precipitazioni con eventuali episodi di nevischio da circa 1000-1300 metri, in pianura generalmente assenti. Temperature minime tra i 2 e i 7 gradi, massime comprese tra i 9 e i 12 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo variabile durante tutto l'arco della giornata, con possibilità di qualche addensamento nuvoloso e qualche nebbia notturna in pianura e nelle valli. Temperature minime tra i 4 e gli 8 gradi, massime dai 12 ai 14 gradi. Sul Trentino Alto Adige cielo per lo più soleggiato, con forti venti in quota e localmente anche in valle. In serata e nella notte annuvolamenti irregolari e possibilità di qualche debole precipitazione in montagna sui ridievi più a nord. Temperature minime tra lo 0 e i 2 gradi, massime comprese tra i 6 e gli 11 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a Sandona di Piave.